Premettiamo che sono in macchina perché sto aspettando il Kundispa in stazione, mannaggia lui ha finito tutti i miei giga per vedermi l'Argentina e l'Islanda sul telefonino, sul cellulare, però vabbè a parte questo. Allora ragazzi l'Argentina, l'Argentina batte la Nigeria 2 a 1, passa come seconda, la Croazia fa il proprio dovere, batte l'Islanda 2 a 1, passa come prima quindi, prima Croazia, seconda Argentina, terza Nigeria e quarta Islanda. Allora, premettiamo una cosa molto molto importante, magari è vero che l'Argentina è passata un po' a culo, magari è vero che forse non ha dimostrato di essere quella grande squadra e bla bla bla, però secondo me ragazzi in questo girone probabilmente sono passate quelle che meritavano. È vero che l'Argentina ha fatto cagare per tutto il girone, cioè sono il primo a dirlo, hanno fatto delle critiche molto molto grandi all'allenatore, è passata per il rotto della cuffia. Credo ragazzi che questo sia palese, ok? Siamo tutti più o meno d'accordo. Quella è però la cosa che vado a dire, che l'Islanda, cioè l'Islanda ragazzi ha fatto un ottimo punto con un'Argentina a pezzi, perché poi non è che possiamo andare a dire il contrario. Poi è andata a perdere con la Nigeria, tu non puoi perdere con la Nigeria, poi con la Croazia già qualificata che addirittura se l'Islanda avesse fatto punti sarebbe stata più contenta, è andata a perdere. Allora no, tu non meriti, ti passa il turno. Poi la Nigeria anche, la Nigeria ok, magari la seconda partita l'ha vinta, gran bella partita secondo me con Musa e Mattatore. Oggi un po' se l'è cavata, oggi un po' l'ha messa in difficoltà, anche se forse avrebbe voluto fare di più, viste poi le difficoltà difensive così palesi dell'Argentina. La mia partita ragazzi contro la Croazia, la Nigeria niente, 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 non pervenuta. L'Argentina la prima ha fatto così e così con l'Islanda, la seconda ha fatto cagare. Ma diciamo che Nigeria e Argentina più o meno si sono equivalse secondo me, ma infatti se non vado errato poi hanno chiesto entrambi a 4 punti. Poi ovviamente, no, l'Argentina li ha superati, l'Argentina ha fatto 4 punti, la Nigeria ha fatto 3 punti, 3 punti. Ok, sono più o meno equivalse per quanto fatto vedere in campo, penso che questo si possa dire. Però poi ragazzi, palesemente oggi è stato lo scontro diretto, l'Argentina batte la Nigeria 2 a 1 e quindi forse, non dico abbia meritato il passaggio del turno, però è passato e gli si può veramente dire poco. Forse io quando poi c'era l'Igalo il rigore per la Nigeria l'avrei fischiato. È vero che prima tocca la testa, è vero che è involontario, però ragazzi lui la blocca con le mani in area di rigore, il difensore dell'Argentina la blocca, cioè la blocca, non permette al Pony di andare nella direzione appunto prevista. Il braccio non era attaccato al corpo, anzi, sinceramente non penso che, io penso l'avrei fischiato, ovviamente bisogna interpretarlo, bisogna vedere il regolamento, quindi magari dico una cazzata. Se sono di una cazzata, ho detto una cazzata, ragazzi, lo dico sempre, il discorso è molto semplice. Poi mi dicono, non è vero perché il regolamento dice questo, il regolamento dice quello, perfetto, allora ecco, ho sbagliato io, è giusto così, semplicemente, proprio semplicissimo. Non mi è piaciuto il fatto che San Paoli abbia dato il tutto per tutto, ragazzi, non mi è piaciuto il fatto che San Paoli abbia dato il tutto per tutto mettendo il 4-2-4, per me il 4-2-4, ve lo dico sempre, ragazzi, è un modulo perdente, estremamente perdente. Il 4-2-4 è un modulo perdente, quando tu metti il 4-2-4 è perché non sei stato sufficientemente bravo da dare un'identità alla squadra prima, e ragazzi non è che più aumenti il numero di attaccanti più vinci, c'è uno schema tattico di gioco che appunto ti porta a vincere, quindi io sono contro, assolutamente contro il 4-2-4. A parte questo, agli ottavi di finale vedremo Francia-Argentina, una peggio da un'altra, nessuno che ha un'identità di gioco. Per voi ragazzi, chi passa? Famo sto pronostico. Io vi invito a lasciare un piacere se vi è piaciuto, di like invece quando non l'avete fatto cagare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Mi piace a questo video, buon ciò l'alla e come sempre, ci vediamo un prossimo video.